siamo tornati ragazzi tutto apposso certo quando siamo in salvo noi concludiamo tutte le riprese per adesso siamo ancora sotto sotto tiro da lontano ci vedono di queste tocci che si muove perché cazzo dentro sono mezzo di roccato dobbiamo stare un pochettino attenti ma penso sempre sono un po di roccato ma comunque non è un problema attenzione manfredo che scende le scale piano 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 si con la macchina con l'elicotto posto a posto continuiamo allora dobbiamo fare la strada dove affrontare le case ok facciamo la strada affrontare le case vediamo dove ci porta allora tagliamo di qua tagliamo di qua ma che sace non stai io non lo vede vai basta sono le scale che portano sopra faccio un briefing sopra la porta all'altro piano qui c'è il balcone faccio una stanzina qui sono le finestre, il balcone che porta sempre fuori possiamo riscendere se non ci rompessero i coglioni le persone a rompere le mattone ragazzi non fate questa scena che sto riprendendo ah ok, non freddo, tu che sei zazzoppo va bene, andiamo a proseguire dritti per il fronte dove c'è la strada va bene allora cerchiamo la strada migliore vado avanti la migliore vuol dire la più percorribile di qua c'è spiazzato vediamo che cosa c'è qua di qua, di qua, di qua ho le calze però dai si potrebbe giocare vediamo se ci possiamo fare qualche torneo ne uscava i soldi qui ci può fare una strada migliore si, si, questo si, questo è sicuro no, guarda, guarda, con tutto questo largo che c'è qua uno può fare... prova proprio a venire di giorno a vedere le seconde case con... allora guarda grazie a tutti grazie a tutti